I Fatti Il 2 luglio 2022 a Ginevra, una clamorosa rapina a mano armata finì sulle prime pagine di tutti i giornali. Questo libro ne racconta la storia. Prologo Il giorno della rapina, sabato 2 luglio 2022. Ore 9.30 I due rapinatori si erano appena introdotti simultaneamente nella gioielleria da due accessi diversi. Il primo dall'ingresso principale, come un normale cliente. Tratta in inganno dal suo abbigliamento elegante, la guardia giurata non si era insospettita per il berretto e gli occhiali da sole, più che plausibili in quel mese di luglio. L'altro, con il viso coperto da un passamontagna, era passato dall'entrata di servizio, minacciando una dipendente con un fucile a canne mozze e costringendola ad aprirgli la porta. Nulla era stato lasciato al caso. Avevano avuto accesso alla pianta del negozio e agli orari del personale. Una volta dentro, il passamontagna aveva legato la dipendente nel retro e raggiunto rapidamente il complice. Appena lo aveva visto, il berretto aveva estratto il revolver che teneva la cintola e si era messo a urlare «Questa è una rapina! Che nessuno si muova!» Poi aveva tirato fuori dalla tasca un cronometro e l'aveva fatto partire. Disponevano esattamente di sette minuti. Capitolo primo 20 giorni prima della rapina Domenica 12 giugno 2022 Era una casa moderna, un grande cubo, tutto in vetro, che sorgeva al centro di un giardino impeccabile, con una piscina e una grande terrazza. La proprietà, circondata dalla foresta, era un oasi, un piccolo paradiso segreto al riparo da ogni sguardo, al quale si accedeva da una strada privata. Una casa da sogno, abitata da persone da sogno, Harpard e Sophie Brown, erano la coppia ideale e i genitori felici di due bambini meravigliosi. Quella mattina Sophie aprì gli occhi alle 6 in punto. Da un po' si svegliava sistematicamente alla stessa ora. Accanto a lei, suo marito Harpard era immerso in un sonno profondo. Era domenica e le sarebbe piaciuto dormire ancora un po'. Si girò nel letto, ma non ebbe fortuna. Alla fine si alzò senza fare rumore. Infilò una vestaglia e scese in cucina per prepararsi un caffè. Di lì a una settimana avrebbe compiuto 40 anni e non era mai stata così bella. Dal limitare del bosco si vedeva perfettamente l'interno del cubo di vetro. Un uomo, che si sapeva invisibile nei suoi indumenti sportivi scuri, stava accovacciato dietro un tronco, gli occhi fissi su Sophie nella cucina. Sophie, con il caffè in mano, scrutava il margine della foresta che segnava la fine del giardino. Era il suo rituale mattutino. Abbracciava con lo sguardo il suo piccolo regno, senza sospettare che qualcuno la stesse spiando. A pochi chilometri di distanza, nel centro di Ginevra, una Peugeot grigia con la targa francese percorreva un viale deserto. Nelle prime luci del giorno non si riusciva a distinguere il conducente dietro al parabrezza. Il vericolo attirò l'attenzione di una pattuglia della polizia. I lampeggianti blu illuminarono le facciate degli edifici circostanti. Gli agenti procedettero al controllo della Peugeot e del conducente. Era tutto in ordine. Uno dei poliziotti gli chiese per quale motivo fosse a Ginevra. «Sono venuto a trovare la mia famiglia», rispose lui. I poliziotti, visibilmente soddisfatti, ripartirono. Il conducente si congratulò con se stesso per quell'auto usata che aveva acquistato a un ottimo prezzo. E soprattutto, in tutta legalità. Era il modo migliore per passare inosservato. Sofì, alla finestra, continuava a contemplare il giardino. A volte sorprendeva una volpe che si aggirava sul prato. Le era perfino capitato di vedere un capriolo. Adorava quella casa, che aveva comprato un anno prima, insieme al marito. Fino ad allora aveva vissuto in un appartamento nel cuore di Ginevra, nel quartiere Champel. Era da un po' che l'idea di una casa indipendente, con un giardino per i bambini, ronzava nelle loro teste. L'aumento dei prezzi nel settore immobiliare li aveva decisi a vendere il loro appartamento con un buon profitto e a mettersi alla ricerca di una casa. Quando avevano visitato quella villa, progettata da un architetto che si trovava nell'esclusivo comune di Cologne, non avevano esitato un attimo. Si sarebbero svegliati ogni mattina in quella cornice incantevole, pur essendo ad appena 4 chilometri dal centro di Ginevra, dove entrambi lavoravano. Poche fermate di autobus, 12 minuti di macchina, 15 di bicicletta elettrica per gli hipster. Era tutto ciò che ci voleva per passare da un universo all'altro. L'uomo nascosto tra i cespugli osservava ora Sophie con un piccolo binocolo militare, scrutando il suo corpo slanciato, messo in mostra dalla vestaglia corta. Si soffermò sulla parte alta della coscia, dove c'era il tatuaggio di una pantera. Qualche decina di metri più indietro, il suo cane aspettava paziente, legato a un albero. L'animale, accucciato su un tappeto di foglie, sembrava abituato a quella routine, che durava ormai da diverse settimane. Il padrone andava lì tutte le mattine. All'alba si piazzava in quel punto e osservava Sophie attraverso le grandi vetrate. I Brown dormivano con le veneziane aperte, così lui vedeva tutto. La guardava alzarsi, scendere in cucina, farsi un caffè e poi berlo alla finestra. Era così desiderabile. Era accecato da lei. Ossessionato. Bevuto il caffè, Sophie salì al piano di sopra e tornò in camera. Si spogliò e si infilò nuda nel letto dove il marito stava ancora dormendo. Dalla foresta l'uomo la guardava con desiderio, ma di lì a poco fu richiamato alla realtà. Era ora di andare. Doveva essere di ritorno a casa prima che Carina e i bambini si svegliassero. Slegò il cane e se ne andò come era venuto, correndo. Imboccò il sentiero che attraversava il bosco, raggiunse la strada principale e in breve fu a Cologny. Si diresse verso un piccolo blocco di villette a schiera, un gruppo di abitazioni identiche, un complesso a buon mercato per famiglie della classe media che aveva fatto molto chiacchierare in quel comune chic abituato alle ville di lusso. Barcando la porta d'ingresso, si sentì chiamare dalla moglie. Greg, sei tu? Greg trovò carine nel soggiorno, intenta a leggere mentre beveva un tè. I bambini stavano ancora dormendo. Già in piedi tesoro, chiese stupito, in un tono di finto distacco. Ti ho sentito quando ti sei alzato e non sono più riuscito a prendere sonno. Scusa, non volevo svegliarti, sono andato a correre con il cane. Greg, che non pensava ad altro che a Sophie, raggiunse la moglie sul divano e si strinse a lei, ma Carina non era visibilmente disponibile. Smettila, Greg. I bambini si sveglieranno. Per una volta che posso godermi un libro in santa pace. Avvilito, Greg salì al piano di sopra per fare la doccia nel bagno adiacente alla loro camera da letto. Rimase a lungo sotto il getto d'acqua tiepida. Le sue fughe mattutine avrebbero potuto costargli care se lo avessero scoperto. rischiava di perdere il lavoro e Carina lo avrebbe lasciato. Era il primo a vergognarsi di spiare una donna così in casa sua, ma non poteva farne a meno. Era questo il problema. Quell'attrazione fatale per Sophie era cominciata un mese prima, durante una festa a casa dei Brown. Da quella sera non era più lo stesso. Un mese prima, sabato 14 maggio 2022. Greg e Carine sarebbero potuti andare a piedi, ma il tempo uggioso li aveva indotti a prendere la macchina. Il tragitto durò appena tre minuti. Da casa loro risalirono Rue de la Chapit e poi, seguendo le indicazioni del navigatore, svoltarono nella stradina privata costeggiata dal bosco che conduceva la casa dei Brown. Incredibile, osservò Greg, scoprendo il percorso. Vengo spesso a correre da queste parti con il cane, ma non sapevo nemmeno che ci fosse una casa alla fine di questa strada. Era la prima volta che andavano da Sophie e Arpad. L'occasione era una festa organizzata per il quarantesimo compleanno di Arpad. A giudicare dal gran numero di auto parcheggiate lungo la strada, c'era già un bel po' di gente. Greg occupò uno degli ultimi posti rimasti liberi sullo spiazzo erboso e si incamminarono verso il cancello lasciato aperto. Le quiline metalliche stonavano con la vegetazione circostante. Arpad e Greg si erano conosciuti alla società di calcio locale in cui giocavano i loro figli, che avevano più o meno la stessa età. I due padri facevano parte del gruppo di volontari incaricati di occuparsi del piccolo barattigo al campo da calcio, che nei giorni delle partite consentiva di rimpinguare un po' le casse della società. Avevano in breve simpatizzato. Carina invece non conosceva e Brown. Era nervosa. Si sentiva facilmente a disagio quando si trovava su un terreno sconosciuto. Per darsi un contegno si mise a parlare. Sono stati carini a invitarci. Greg annui. Quante persone hanno invitato? Gli chiese. Non ne ho idea. Arpad non te l'ha detto? No. Ma saranno una decina? Una trentina? Cosa devo aspettarmi? Non lo so. Non sono il regista della serata. Arpad non te l'ha accennato? No, affatto. Di che cos'è che parlate quando siete insieme al bar del campetto? Greg scrollò le spalle. Dei figli? Della vita? Di banalità? Ma certo non dei particolari della sua festa di compleanno. In ogni caso, disse Carine, per chiudere quella conversazione inconcludente, sono stati carini a invitarci. Continuarono a camminare in silenzio. In quel periodo c'erano molti silenzi tra lei e Greg. Carine era convinta che il trasloco a Coligny, un anno prima, non avesse loro giovato. Fino ad allora avevano vissuto in un appartamento in affitto nel centro di Ginevra, nel quartiere di Leoviv. Una strada animata, negozi nelle immediate vicinanze, il lago proprio a due passi. Era un appartamento confortevole. Un po' piccolo per una famiglia di quattro persone, certo, ma l'affitto era imbattibile. Poi era arrivata quella piccola eredità dalla famiglia di Greg, sua nonna. E da quando aveva ricevuto quei soldi, Greg aveva iniziato a parlare come un piccolo borghese. Bisognava investire, preferibilmente nel mattone, che era più sicuro dei mercati azionari. E poi le banche prestavano l'80% della somma necessaria e i tassi di interesse non sono mai stati così tanto bassi. E così si era messo a spulciare gli annunci immobiliari e si era imbattuto in quel progetto a Coligny. Graziose villette a schiera, da comprare sulla carta. È vero che le immagini erano da sogno. Una casa tutta per loro, con un pezzetto di giardino, una vita in campagna, a pochi minuti dalla città. Greg diceva che sarebbe stato un buon investimento. Il mercato immobiliare era in continua scesa da decenni. Così avevano fatto il grande passo. Era stato tutto molto semplice. La banca aveva concesso il mutuo e avevano firmato l'atto di vendita dal notaio. Ed ecco, come un anno prima, erano approdati nell'elegantissimo comune di Coligny. Ma fin dal suo arrivo, Carine si era sentita fuori posto. Innanzitutto, aveva scoperto che la casa era più piccola di quanto avesse immaginato. C'era una bella differenza tra l'idea che si era fatta delle stanze a partire dai progetti e la realtà. Si sentiva un po' stretta, anche se la superficie era decisamente più grande di quella del loro vecchio appartamento. Alla fine aveva capito che il suo disagio era dovuto soprattutto al nuovo ambiente. In quel ricco soborgo di Ginevra, la maggior parte degli abitanti ostentava sfacciatamente la propria riuscita economica e sociale. Avvocati, banchieri, chirurghi, uomini d'affare, capi d'azienda. Le auto e le ville la dicevano lunga sul successo dei loro proprietari. Carine si chiedeva di continuo che diamine ci facessero loro due lì. Lei commessa in una boutique e lui dipendente pubblico. Quella sensazione si era accentuata quando aveva capito che in mezzo a quelle villette da milionari, il complesso per la classe media in cui lei e la sua famiglia si erano trasferiti era un pugno nell'occhio. Aveva persino scoperto con orrore che gli abitanti di Coligny avevano soprannominato quelle villette a schiera l'obbrobrio e che il consiglio comunale aveva addirittura tenuto una riunione speciale per approvare un'ordinanza che impedisse in futuro altre costruzioni del genere. Tutti i giorni, dopo aver lasciato i bambini a scuola, a pochi minuti a piedi da casa, Carine saltava sull'autobus della linea A che collegava la campagna al centro cittadino. Nel suo tragitto, l'autobus passava da Léoviv, il suo vecchio quartiere, e ogni volta lei provava una punta di nostalgia. Scendeva a Rompois-des-Rives e raggiungeva Rue de Rue, dove si trovava il negozio in cui lavorava. Mescolandosi alla folla, si sentiva rasserenata. Greg e Carine superarono infine il cancello, accedendo nella proprietà. Un cortile acciottolato si apriva su un garage in vetro al cui interno si scorgevano due Porsche. Subito dietro c'era la casa, tutta in vetro e dal design moderno. Però, se la godono, esclamò Carine, cos'è che fanno nella vita? Arpad lavora in una banca e Sofia avvocato. Arrivarono alla porta e Greg suonò il campanello. Attraverso le ampie vetrate videro che la festa era in pieno svolgimento. Quarantenni dall'aria per bene dondolavano dolcemente al ritmo della musica, con una coppa di champagne in mano. Carine osservò il proprio riflesso nel vetro. Era elegante e di classe, vestita come sempre con gusto. Eppure non si trovava all'altezza della serata. Non c'era nulla che andasse bene in quel momento. Aveva 42 anni e l'impressione di essersi lasciata la giovinezza alle spalle. Lo specchio glielo ripeteva ogni mattina. Poi la porta si aprì e Greg e Carine rimasero folgorati davanti alla coppia straordinaria venuta ad accoglierli, Sophie e Arpad. Rappresentavano tutto ciò che loro non erano più. Innamorati, sorridenti, allegri, a braccetto. Un duo, alleati. Arpad era stupendo, al tempo stesso raffinato e disinvolto. Con pantaloni italiani dal taglio perfetto e una camicia di un bianco smagliante. I cui ultimi bottoni, rimasti aperti, lasciavano intravedere un torace muscoloso. Sophie, dal canto suo, indossava un abito nero divino, corto sulle cosce, sexy da morire, che metteva in risalto il petto sodo e lasciava scoperte le sue magnifiche gambe, rese ancora più lunghe dalle décolleté di Yves Saint Laurent. Vedere Sophie e Arpad quella sera era come ricevere una scossa. Karine e Greg furono accolti entrambi con un gioioso abbraccio, seguito da baci, prima di essere trascinati dentro casa e presentati agli altri ospiti. Arpad servì l'oro dello champagne. Poi Sophie prese per mano Karine e la portò a conoscere le sue amiche. Karine, sollevate all'improvviso perfettamente a suo agio, beve in un sorso la sua coppa. Sophie gliela riempì subito e brindarono insieme. Karine era ammaliata. Pochi minuti prima, davanti alla porta d'ingresso, aveva condannato a priori Sophie e Arpad per il crimine della loro casa, delle loro auto e delle loro vite. Si era lasciata ingannare dalle apparenze. Se li era immaginate altezzosi, scostanti, con la puzza sotto il naso. Invece erano tutto il contrario. Emanavano un calore e una gentilezza ineguagliabili. Quella sera, per la prima volta da quando era arrivata a Coligny, Karine fu veramente felice. Ballò, si divertì, si trovò bella. Non si sentì più fuori posto. Per lo spazio di una serata, si piacque di nuovo. Ma quell'incontro, in realtà, era stata una collisione. Uno scontro frontale, un incidente di cui nessuno aveva colto la portata. Tranne Greg, e per ragioni evidenti. Dall'istante in cui aveva messo piede in quella casa, non era più riuscito a staccare gli occhi da Sophie. Era galvanizzato. Eppure, non era la prima volta che la vedeva, ma la stava scoprendo sotto una nuova luce. A bordo campo, durante le partite di calcio, o nella panetteria del paese, non si era reso pienamente conto della sua bellezza, dell'animalità che sprigionava. Mentre Karine si divertiva e ingollava una coppa di champagne dopo l'altra, Greg, perfettamente sobrio, passò la serata a spiare Sophie. Lo affascinava tutto di lei. Il modo di parlare, di sorridere, di ballare, di toccare la spalla del suo interlocutore. Intorno a mezzanotte, quando fu il momento della torta, la osservò guardare Arpad e avrebbe voluto essere lui. Sophie si aggrappò al collo del marito, gli diede un lungo bacio e lo aiutò a tagliare le prime fette. Poi, davanti a tutti, gli portò un pacchetto regalo. Lui parve sorpreso e lo fu ancora di più quando sotto la carta trovò un cofanetto Rolex. Lo aprì, e ne strassi un orologio d'oro. Lei glielo infilò al polso. Arpad fissò l'orologio sbalordito. Poi sussurrò qualcosa all'orecchio della moglie e la baciò di nuovo. La loro complicità era davvero invidiabile. Verso l'una, al clou della festa, Greg non vide più Sophie tra la piccola folla degli invitati. Si mise subito a cercarla e la scovò in cucina dove stava mettendo dei bicchieri nella lavastoviglie. Cercò di aiutarla ma urtò goffamente un bicchiere che cadde a terra e si ruppe. Si precipitò a raccogliere i cocci sparsi e quando lei si accovacciò accanto a lui per fare lo stesso, l'abito le si rialzò sulla coscia rivelando il tatuaggio di una pantera. Greg era completamente stregato. Peggio, si era innamorato. Mi dispiace davvero, disse. Volevo dare una mano ed ecco il risultato. Non c'è problema, lo rassicurò lei sorridendo. Un mese dopo la festa di compleanno, sotto la doccia, Greg ripensava a quello che gli aveva detto Sophie. Non c'è problema. Ma il problema era lui. Il giorno successivo alla festa, passeggiando nella foresta con Sandy, il loro golden retriever, aveva scoperto che poteva raggiungere la proprietà dei Brown passando dal bosco. Da lì si aveva una visuale perfettamente sgombra dell'interno del cubo di vetro. Greg non aveva saputo trattenersi dall'osservare la famiglia Brown seduta in salotto. L'indomani, all'alba, era tornato per fare jogging con il cane e aveva visto Sophie in piedi alla finestra. Da allora ci andava tutte le mattine. Finita la doccia, Greg si vestì e scese in cucina. Nel frattempo i figli si erano alzati e stavano facendo colazione. Li salutò con un bacio, si sedette a tavola e come tutte le mattine da un mese a quella parte, si sforzò di convincersi che tutto sarebbe andato bene e che il suo posto era lì, con loro. Ma nel giro di venti giorni, la sua vita sarebbe completamente cambiata. Il passamontagna spinse nel retro il commesso e il direttore del negozio. Il berretto obbligò la guardia giurata a chiudere con il chiavistello scorrevole la porta del negozio, prima di trascinarla a sua volta al riparo dagli sguardi. Se qualcuno fosse passato davanti alla vetrina, avrebbe visto solo un negozio vuoto. Ancora sei minuti. Capitolo 2 19 giorni prima della rapina, lunedì 13 giugno 2022. Sette e mezzo di mattina, casa di vetro. Mentre Sophie finiva di prepararsi al piano di sopra, Arpadda e Fornelli cucinavano a montagna di pancake sotto lo sguardo divertito dei due figli seduti al bancone della cucina. Chiaramente di ottimo umore, si stava esibendo per loro in uno di quei numeri che solo lui sapeva fare, lanciando in aria le frittelle dalla padella all'altra e riaccappandole con smorfie che scatenavano l'ilarità della prole. I pancake di solito li mangiamo solo nel fine settimana, fece notare Isaac, dall'alto dei suoi quasi sette anni. C'è un'occasione speciale? È festa, si entusiasmò Lea, quattro anni. La vita è una festa, osservò Arpadda. Sofì apparve in cucina. Vostro padre ha ragione, disse. La vita è una festa, non lo dimenticate mai. Diede un bacio ai figli e poi abbracciò il marito che le porgeva una tazza di caffè. Stretta a lui, rimirò felice il suo piccolo mondo. Se la vita è una festa, perché dobbiamo andare a scuola? chiese Isaac. Abbiamo un filosofo in famiglia, commentò Arpadd divertito. Che cos'è un filosofo? domandò Isaac. Lo imparerai se continui ad andare a scuola, ribatte Sofì. Chi ci porta a scuola? si informò Lea. Posso portarli io, propose Arpadd, rivolto alla moglie. Era in tenuta sportiva, niente affatto pronto per andare in banca. Non hai più un lavoro? chiese Sofì in tono scherzoso. Lui scoppiò a ridere. Dovevo vedermi a colazione con un cliente inglese che ieri sera ha perso il volo. Ne approfitto per fare una corsetta e arrivare un po' più tardi. Sofì controllò l'ora. Molto volentieri allora, accompagnali tu. Stamattina ho una riunione importante che devo ancora preparare. Posò la tazza fumante sul bancone, poi salutò ognuno di loro con un tenero bacio. Imboccò il corridoio a vetri che portava direttamente al garage, salì in macchina e lasciò il suo piccolo paradiso. Pochi minuti dopo, passava davanti alla scuola elementare di Coligny. Era presto e non c'era ancora anima viva. All'altezza della fermata dell'autobus rallentò, cercando con lo sguardo carine. Grazie al compleanno di Arpadd, le due donne non solo avevano simpatizzato, ma avevano scoperto di lavorare dalle stesse parti, in Rue du Rhone. La boutique si trovava a poche decine di metri dall'edificio che ospitava lo studio legale di Sofì. Dal giorno della festa, Sofì dava un passaggio in macchina carine ogni volta che la vedeva alla fermata dell'autobus. Fare il viaggio insieme era per le due nuove amiche un piacere condiviso. Sofì se ne rese conto quando quella mattina, non scorgendo carine, provò una punta di delusione. Le piaceva la sua compagnia. Era una donna diretta, sincera e senza ipocrisie. I suoi aneddoti gustosi trasformavano il tragitto fino in centro in una gradevole parentesi. Sofì lasciava l'auto nel parcheggio sotterraneo del Mont Blanc, dove affittava un posto per tutto l'anno. Le due donne uscivano dalle scale mobili che sbucavano sul Quai du General Guisan, di fronte al lago e ai nugoli di gabbiani e cigni bianchi nutriti dai passanti. Facevano ancora qualche passo insieme e si separavano in Rue du Rhone. Quella mattina, mentre Sofì si fermava nel parcheggio del Mont Blanc, accolignì nella cucina dell'obbrobrio, Karine faceva una scenata a Greg sotto lo sguardo dei ragazzi che divoravano i loro cereali. Il motivo della lite erano i nuovi orari di jogging di Greg. Fino a poco tempo prima capitava solo di Rado che andasse a correre di mattina e quando lo faceva usciva all'alba e tornava in tempo per essere pronto prima che i bambini si svegliassero. Da un mese a quella parte, però, non soltanto correva tutte le mattine senza eccezione, ma soprattutto aveva posticipato l'orario cosicché Karine si ritrovava sempre da sola con i due bambini e finiva per arrivare immancabilmente in ritardo al lavoro. Vai a correre troppo tardi, rimproverò al marito. Stamattina sono partito da qui alle sei meno un quarto, si difese Greg. E intanto che Monsignore si fa la doccia, si prepara e viene a fare colazione con calma, io devo occuparmi di tutto il resto. Perché hai cambiato orario? Quando andavi a correre alle cinque, ci trovavamo benissimo e dicevi che ti piaceva uscire presto. Era troppo presto, sono stanco morto, ho diritto a dormire un po' e io ho diritto ad avere un po' di aiuto. Qualcuno dovrà pur portare fuori il cane, obiettò Greg. Sandy, il cane, era arrivato insieme all'inaugurazione della casa. Una pessima idea. Il minuscolo giardino dell'obbrobrio non gli offriva abbastanza spazio per fare movimento. Sandy non ha bisogno di correre nel bosco per un'ora, ma io ho bisogno di prendere aria al mattino prima di tutta la pressione al lavoro. Beh, prendila di sera quando non fai perdere tempo a tutti. Arriverò di nuovo in ritardo al negozio. Vuoi che mi licenzino? Greg si sforzò di buttare acqua sul fuoco. Dai, corri, disse. Mi occupo io dei bambini. Posso arrivare un po' più tardi al lavoro. Carine baciò i ragazzi, ignorò deliberatamente le labbra del marito e se ne andò. L'aria fresca le fece bene. Si avviò a passi affrettati verso la scuola e raggiunse la fermata dell'autobus sperando di vedere arrivare Sophie. Le piaceva il suo modo di fare spontaneo e rilassato. Ammirava la disinvoltura con cui Sophie scivolava nella vita mentre lei aveva l'impressione di inciampare in ogni ostacolo. E non era una questione di soldi ma di personalità. L'auto di Sophie non si era ancora vista quando arrivò l'autobus. Carine salì a bordo, prese posto sul fondo e tirò fuori dalla borsa un pacchetto, una cosuccia che aveva comprato il giorno prima per Sophie. Srotolò la carta da regalo e ne uscì una tazza termica per il caffè ideale per i viaggi in auto. Sophie diceva che non aveva mai il tempo di finire il caffè prima di uscire di casa. All'improvviso Carine si sente un po' ridicola seduta sull'autobus con quel regalo in mano. Mancava terribilmente di fiducia in se stessa. Poco dopo il passaggio dell'autobus Arpard ancora in tenuta sportiva lasciò Lea e Isaac alla scuola di Coligny. Al momento di prendere slancio per il suo jogging si imbatté in Greg che anche lui aveva appena accompagnato i figli in classe. Hai tempo per un caffè propose Arpard. Greg diede un'occhiata all'orologio per valutare il ritardo e poi con un sorriso malezioso decise ma sì volentieri al punto in cui sono non vorrei interferire con la tua corsa però ci andrò a fine giornata tua moglie ti lascia correre quando vuoi sì perché no niente i due uomini si spostarono in una caffetteria e ordinarono due espressi all'improvviso Greg si sentì particolarmente bene era la presenza di Arpard il suo modo di fare rilassato la sua libertà sconcertante di pianificare una corsa al mattino in un giorno feriale e poi sedersi comodamente in un bar davanti a un caffè la quotidianità di Greg era tutta un incastro di obblighi tra i figli e il lavoro gli sembrava di non avere il tempo per nulla e quando riusciva a prendersi qualche giorno di ferie per recuperare gli straordinari Carine trovava il modo di mandarlo a fare la spesa gli chiedeva di riparare un mobile o di portare Sandy dal veterinario tra un sorso di caffè e l'altro Arpard parlava ma Greg non lo stava ascoltando era troppo intento a osservarlo nonostante le apparenze Arpard e Greg si assomigliavano erano tutti e due buoni padri e mariti attenti ma per Greg era chiaro che Arpard aveva una marcia in più una forma di superiorità naturale lo invidiava per questo soprattutto lo invidiava per Sophie tu che ne pensi chiese Arpard riportando Greg alla conversazione Greg che non aveva la minima idea di cosa stesse parlando rispose che avrei bisogno di essere un po' più come te Arpard rise in che senso avere una vita con orari più flessibili uno stipendio migliore e cose così tranquillo anch'io la mia parte di grane sottolineò Arpard credimi la maggior parte dei miei clienti in banca sono dei rompiscatole mai soddisfatti ti chiedono di fare investimenti per loro e tu ti addossi tutte le responsabilità quando le cose vanno bene è tutto normale e quando i mercati ballano è colpa tua non mi riferivo solo al lavoro anche alla famiglia pure lì non sono sempre rose e fiori quando ci sono i figli le preoccupazioni non mancano mai e con Sophie faccio certe litigate come no pensò Greg lo so come ti svegli al mattino Arpard continuò a proposito di Sophie compie 40 anni tra una settimana esatta e non ho ancora trovato un regalo per lei qualsiasi suggerimento è ben accetto dovrà essere qualcosa all'altezza di quello disse Greg indicando il Rolex d'oro al polso di Arpad Arpad non rispose organizzerete una festa da voi chiese Greg non ne ho idea Sophie dice di non voler fare un affare di stato passeremo il fine settimana dai suoi genitori a Saint-Tropez per festeggiare in famiglia per il resto si vedrà avendo notato l'ora sul quadrante del Rolex Greg si alzò devo scappare disse anch'io va pure i caffè li offro io Arpad pagò il conto poi si impose comunque di andare a correre dopodiché tornò alla casa di vetro fece una doccia indossò un completo dal taglio perfetto e partì a bordo della sua Porsche era da un bel po' che si spremeva le meningi per i 40 anni di Sophie voleva celebrare la ricorrenza con un regalo unico e originale il cui valore simbolico superasse quello monetario ma dopo quel maledetto Rolex si chiedeva se non fosse il caso nonostante tutto di regalarle un gioiello preoccupato decise di fare una rapida deviazione per Rudron l'arteria di Ginevra dove si concentravano tutte le gioiellerie e i marchi del lusso forse un'occhiata alle vetrine lo avrebbe ispirato lasciò l'auto all'altezza di Place Longamel e risali a piedi Rudron sperando di non imbattersi in Sophie oltrepassò rapidamente le orologerie poi rallentò davanti alle vetrine dei gioiellieri un braccialetto un ciondolo non era convinto nella vetrina della boutique Cartier vide un anello a forma di testa di pantera era in oro incastonato di diamanti e gli occhi erano due piccoli smeraldi Arpad fu conquistato dalla bellezza e dalla perfezione di quell'oggetto la pantera era lei entrò subito nel negozio non poteva immaginare in quell'istante le conseguenze della sua scoperta alla fine della giornata quando Sophie lasciò l'edificio in cui si trovava il suo studio non si accorse dell'uomo che da diverse ore la spiava era il conducente della Peugeot grigia con targa francese arrivata il giorno prima Sophie raggiunse a passi affrettati il parcheggio del Mont Blanc per recuperare la macchina l'uomo la seguì con discrezione come un predatore la caccia poteva cominciare sabato 2 luglio 2022 il giorno della rapina ore 9 e 33 era una danza perfettamente orchestrata il passamontagna teneva a bada gli ostaggi con il fucile a canne mozze mentre il berretto stringeva delle fascette di plastica attorno ai polsi alle gambe del vigilante e del commesso l'unico a non essere legato come un salame era il direttore del negozio i rapinatori sapevano esattamente cosa facevano il berretto lo trascinò con sé portandolo fino alla cassaforte principale mentre il passamontagna sorvegliava i due ostaggi nella stanza restavano ancora quattro minuti capitolo 3 18 giorni prima della rapina sette e mezzo di sera colignì quando l'autobus si arrestò alla fermata del centro del paese ne scese una passeggera abituale carine si incamminò con passo stanco verso l'obbrobrio era stata una giornata lunga trascorsa per lo più in piedi a mostrare vestiti ai clienti o accovacciata a terra per aiutarli a infilare le scarpe le facevano male i piedi la schiena e la testa come se non bastasse il viaggio di ritorno era stato particolarmente sgradevole l'autobus era strapieno e si era ritrovata pigiata in mezzo agli altri sballottata di qua e di là a ogni frenata e accelerata quando stavano ancora nel vecchio appartamento poteva rincasare a piedi una passeggiata di 15 minuti lungo le rive del lago era sempre piacevole qualunque tempo facesse invece quel dannato autobus Sophie si era anche offerta di riaccompagnarla a fine giornata ma lei finiva sempre troppo tardi perché il negozio chiudeva alle 7 arrivata all'obbrobrio Karine vide che la macchina di Greg non c'era ancora probabilmente aveva dovuto fare gli straordinari tanto per cambiare voleva dire che la cena non era pronta per un attimo rimase immobile avvilita davanti alla porta di casa poi entrò nel piccolo soggiorno in disordine i due figli bisticciavano urlando sotto lo sguardo impotente di Natalia la tata Natalia vent'anni passava la maggior parte del tempo a fotografarsi non metteva in ordine non faceva le pulizie non preparava da mangiare io sono qui per occuparmi dei bambini ma come diceva Greg è una persona di nostra fiducia è questa la cosa più importante e soprattutto accettava una paga oraria incredibilmente bassa che faceva contenti tutti Karine e Greg potevano permettersela e Natalia era pagata per giocherellare col telefono mentre i bambini ciondolavano in casa fino al rientro dei genitori Karine liberò Natalia spedì i figli a fare la doccia e si mise a cucinare dopo aver passato in rassegna il frigo rinunciò a ogni idea di sbucciare pulire e tagliare verdure optando per delle lasagne surgelate si versò un bicchiere di vino da una bottiglia già aperta non era più tanto buono ma pazienza mentre il forno si scaldava vuotò il lavandino dove c'era una montagna di piatti sporchi grazie Natalia poi lavò la tazza termica che aveva comprato per Sofì e che alla fine aveva usato lei squillò il suo cellulare era proprio Sofì Karine rispose subito stamattina non ti ho beccata alla fermata disse dispiaciuta Sofì sono uscita di nuovo in ritardo sospirò Karine tra i bambini e compagnia bella Greg e il suo dannato jogging Karine sentì una musica in sottofondo e immaginò che Sofì fosse a un concerto forse all'opera ti disturbo? chiese no per niente ti ho chiamata io le fece notare Sofì è solo che sento della musica classica ho pensato che è arpada a infliggerci questa tortura spiegò Sofì lanciando una strizzatina d'occhio divertita al marito affaccendato tra pentole e tegami lei stava gustando un bicchiere di vino raggomitolata sul divano in salotto dal bancone della cucina Arpad ricordò alla moglie alla sua interlocutrice chi prepara la cena sceglie la musica tuo marito cucina domandò Karine dice che lo rilassa l'uomo perfetto decretò Karine mentre parlava osservava la sua casa in disordine e le sue lasagne industriali i figli piombarono giù dal piano di sopra urlando come ossessi Karine era solo all'altro capo della linea ma si sentiva in un altro mondo devo lasciarti ora disse a Sofì ho due bambini semi nudi e affamati in salotto ne so qualcosa disse Sofì sorridendo ne dubito rispose Karine tu in salotto hai un'orchestra sinfonica io ho uno zoo Sofì scoppiò a ridere ci vediamo domani mattina domandò se sarò pronta per tempo passo a prenderti a casa quando sono lì suono il clacson ed esci lasciando che Greg se la sbrogli da solo a domani bella Sofì l'aveva chiamata bella era un sacco di tempo che nessuno lo faceva più Karine afferrò la tazza termica e decise di incartarla di nuovo ci aveva bevuto ma poteva regalargliela comunque no? quella sera nella casa di vetro la famiglia Brown consumò la cena preparata da Arpad poi Lea e Isaac andarono a dormire ed ebbe inizio il solito rituale i bambini e Sofì si strinsero insieme nel letto di Isaac e Arpad recitò loro alcuni capitoli del libro che avevano cominciato qualche sera prima la lettura serale era sempre un momento di grande complicità familiare Arpad non si stancava mai di vedere pendere dalle proprie labbra la sua piccola truppa e più il suo pubblico era coinvolto nella storia più lui raddoppiava gli sforzi e gli effetti della narrazione il tempo poteva fermarsi quella sera nell'obbrobrio la famiglia Ligan mangiò tardi delle lasagne stracotte poi quando i bambini stavano finalmente per andare a dormire il maggiore confessò in lacrime che non aveva fatto i compiti e che avrebbe avuto problemi a scuola Greg dovette aiutarlo in matematica ci furono scatti di irritazione strilli e alla fine i compiti li fece Greg dopo quest'episodio i bambini erano agitatissimi e il padre dovette dar prova di una pazienza infinita per metterli a letto quando si furono finalmente addormentati Greg raggiunse in cucina carine che stava finendo di lavare i piatti nella stanza regnava un silenzio gelido indice di malumore Greg si sforzò ad intavolare una conversazione dormono finalmente Natalia avrebbe anche potuto controllare i compiti però prova a dirglielo tu rispose carine con un tono sarcastico l'ultima volta che le ho fatto un'osservazione si è offesa comunque bisognerebbe controllare i compiti prima di cena suggerì Greg questo bisognerebbe è rivolto a me chiese carine che faticava a tenere a freno l'irritazione forse bisognerebbe anche che tu non tornassi a casa così tardi no? ti ho mandato un messaggio e tu pensi che legga i messaggi con i ragazzi che mi urlano nelle orecchie non ho avuto tempo nemmeno per andare in bagno mi dispiace disse Greg che voleva a tutti i costi evitare un'altra lite la prossima volta ti chiamo dovevo assolutamente terminare alcuni rapporti è diventato tutto così burocratico è snervante come se non avessimo già abbastanza scartoffie se sento ancora qualcuno dire che i funzionari pubblici non fanno niente lo strozzo carine che voleva anche lei stemperare l'attenzione annui per fingere interesse verso quei discorsi insipidi se ne fregava di quelle storie di scartoffie e di quelle beghe d'ufficio voleva un po' più di sogno nella vita non poteva dirlo al marito ma in fondo voleva una vita come quella di Arpad e Sophie finiti i piatti Greg si piazzò in soggiorno davanti al televisore faccio una doccia veloce disse carine poi possiamo riprendere la serie magari ma quando riapparve in soggiorno con la vestaglia addosso il divano era vuoto Greg in piedi sulla soglia di casa si stava infilando il cappotto con il guinzaglio del cane in mano dove vai? chiese stupita porto fuori Sandy a quest'ora può benissimo fare pipì in giardino qualcuno per caso lo ha portato a spasso da stamattina domandò Greg provocatoriamente no ammise carine allora deve pur pensarci qualcuno se non lo porto io non lo farà nessuno è un rimprovero sbottò carine no una semplice constatazione sei stato tu a volere un cane gli ricordò sono stati bambini precisò Greg i bambini volevano anche un pony vuol dire che tra un po' avremo un pony in soggiorno Greg fece spallucce inutile discutere fischiò Sandy e si dileguò con il cane nella notte era uscito di casa con l'idea di fare semplicemente il giro dell'isolato ma un passo tira l'altro si ritrovò sul rù dell'HP e proseguì fino alla strada privata che portava alla casa di vetro era più forte di lui si addentrò nella foresta e sgusciò tra le file di alberi come aveva già fatto quella mattina giunto in prossimità del margine avvolse il guinzaglio di Sandy attorno a un tronco e il cane abituato alla manovra si accucciò placidamente sul tappeto di foglie morte Greg scomparve in mezzo alla macchia guidato dalle luci della casa si acquattò tra il fogliame per osservare l'interno del grande cubo le qui ampie vetrate offrivano alla vista un formidabile spaccato della villa e che spettacolo gli si presentò nel salotto Sophie nuda sul divano si offriva al marito che in piedi dietro di lei le imprimeva il suo movimento Greg li divorava con gli occhi dopo la scena in salotto continuò a seguirli con lo sguardo fin dentro la camera da letto li immaginò fare una doccia poi li vide camminare nudi per la stanza andare e venire con lo spazzolino in bocca e infine raggomitolarsi insieme nel letto uno accanto all'altra per un po' lessero quando la luce si spense Greg tornò a casa e si infilò nel letto accanto a Carine che stava già dormendo nella casa di vetro una volta che Sophie si fu addormentata Arpad si rialzò e scese in cucina non riusciva a chiudere occhio continuava a rimuginare afferrò il cellulare e fece scorrere sullo schermo le foto che aveva scattato quella mattina nella boutique Cartier contemplò a lungo l'anello a forma di testa di pantera per indossarlo si infilava il dito nelle fauci dell'animale era un lavoro di orificeria straordinario Arpad era convinto che quella pantera rappresentasse il regalo di compleanno perfetto per Sophie ma visto il prezzo astronomico non aveva saputo decidersi e aveva detto al commesso che sarebbe tornato era combattuto sapeva di dover rinunciare a quel gioiello era arrivato il momento di confessare tutto a Sophie di smetterla con quella farsa ma non poteva farle una cosa del genere a una settimana dal suo compleanno 15 anni prima settembre 2007 Saint-Tropez non avrebbe mai più fatto ritorno a Saint-Tropez stava lasciando per sempre quel luogo che aveva tanto amato non poteva più rimanere era troppo rischioso nel giro di poche ore Arpad aveva detto addio a una parte della sua vita doveva sparire in fretta e definitivamente senza lasciare tracce aveva cominciato dall'alloggio alla vecchietta che gli fittava un appartamento ammobiliato sopra casa sua aveva parlato di imprescindibili urgenze familiari lei non aveva fatto domande si era soprattutto affrettata ad accettare i due mesi di affitto che le aveva portato in una busta a mo' di preavviso poi Arpad aveva svuotato le stanze e stipato tutto ciò che possedeva nella sua piccola auto subito dopo si era recato al Beatrice uno dei più famosi ritrovi notturni di Saint-Tropez dove lavorava da un anno supervisionava tutta la parte bar e accoglienza di quel ristorante alla moda che con il procedere della serata si trasformava in night club al gestore del locale aveva raccontato di aver appena ottenuto un impiego nella finanza un'offerta che non poteva rifiutare il gestore era stato molto comprensivo non hai nulla di cui scusarti Arpad sei andato all'università per cinque anni non avevo ancora mai visto un responsabile di bar con una laurea in economia tanto meglio per te ma avrei preferito che mi dicessi prima che stavi cercando un altro lavoro così avrei trovato un sostituto sperava di vedere Sofia al Beatrice ma non era ancora arrivata poiché al telefono non riusciva a rintracciarla la cercò a lungo per le strade di Saint-Tropez in vano meglio così in fondo non si sarebbe bevuta nessuna delle sue bugie doveva rinunciare a lei per proteggerla la sua ultima tappa fu una stazione di servizio dove fece il pieno mentre riempiva il serbatoio copiò su un tacquino due numeri quello di Sophie e quello di Patrick Müller un banchiere svizzero conosciuto al Beatrice che gli sarebbe senz'altro stato utile fatto questo distrusse la sim e si sbarazzò del telefono gettandolo in un bidone della spazzatura non lo avrebbero mai ritrovato poi raggiunse l'autostrada direzione nord non sarebbe più tornato o almeno così credeva lui non lo avrebbero